Barone Vassallo 27 ottobre 2024 allora parliamo del ragazzo che non si sa se esisteva questo ragazzo che non si sa se esisteva naturalmente non diremo il nome ma c'è stato un video in cui questo ragazzo compariva nel quale molte persone hanno alzato le mani hanno detto beh ci siamo sbagliati alcuni altri no alcuni altri hanno detto vabbè dai a parte gli occhi di colore e forma diversa a parte le sopracciglia di forma diversa a parte l'attaccatura dei capelli diversa a parte l'orecchio diverso a parte il mento leggermente diverso a parte altre piccole o più grandi differenze evidenti dai ci somiglia e allora poi fanno vedere tutte le immagini di questo fantomatico ragazzo che non si sa se esisteva con diverse sfaccettature sia di volto sia di colore sia di espressione sia di lineamenti addirittura il pomo da damo diverso e allora poi quando si pongono dei quesiti degli interrogativi allora c'è sempre chi dice guarda il carcere cancella anche i nei nel viso ridisegna le sopracciglia lo sanno tutti il carcere ti fa cambiare e quindi altre persone sottolineano quindi il carcere schiarisce l'iride cambia la forma degli occhi cambia il lobo dell'orecchio e anche l'attaccatura dei capelli interessante questo pensavo che queste cose si potessero ottenere solamente tramite chirurgia quindi sono un ignorante e allora poi si parla della bocca chiaramente la dentatura una forma migliore vedendo le nuove immagini e quindi un pochino ci sono delle differenze e quest'altra persona dice ma anche la vita ti cambia fisionomia naturalmente si risponde sì ok si cambia fisionomia in dieci anni quindici anni non in neanche un anno e allora addirittura un'altra persona dice ma a me anche i nei sembra che non ci sono più meglio di una chirurgia plastica veramente e allora poi a parte tutti gli scherzi a parte tutti i giochi c'è una persona con nome e cognome con un profilo che afferma una cosa scusate ma c'ho le zanzare che afferma una cosa molto importante che come me ha controllato non esisteva alcun xxxx in quella scuola l'unico a conoscerlo era quella insegnante di educazione fisica nella sua stessa squadra di pallavolo lui non c'è mai stato non so a che gioco giocano ma la cosa più inquietante la cosa è più inquietante dell'accadimento raccontato e allora lascio a voi lascio a voi di indovinare il personaggio narrato in questo racconto e lascio a voi anche che di esprimere una vostra opinione ma allora come diceva Ezio Greggio è lui o non è lui certo che lui ma sarà lui io posso dirvi la mia nelle tre rappresentazioni io vedo tre persone diverse probabilmente tre sosia ma non sono la stessa persona questa è soltanto la mia opinione il resto chiaramente prendendosi del tempo c'è modo di trovare un sosia c'è modo di trovare qualcuno che gli somigli secondo me tutto questo silenzio è stata proprio la necessità di trovarlo ditemi cosa ne pensate ci vediamo domani ciao a tutti ciao a tutti